Sì, grazie Presidente, grazie colleghe, ringrazio il collega Fattori per questa ottima iniziativa che abbiamo sostenuto con la sottoscrizione dell'atto, perché condividiamo in pieno le ragioni profonde di questa urgenza. Ricordo che proprio nel 2014 tra i primi firmatari di una mozione approvata a voto unanime in Parlamento ci furono i nostri portavoce Zolezzi, Sibiglia e Dincà e con questa mozione, grazie al Movimento 5 Stelle, ma a tutte le forze che l'hanno sostenuta, abbiamo approvato a livello parlamentare la possibilità che si individuassero dei fondi per fare questo piano regionale che uscissero dal pato di stabilità. Quindi questo è un ottimo risultato, quindi non abbiamo scuse per rimandare ulteriormente la risoluzione di questo problema a partire dalla mappatura, in primo luogo dalla mappatura degli edifici pubblici, scuole, caserme e in questa mozione importante, quindi introducendo l'obbligatorietà per le regioni in questa mappatura, un ulteriore sollecito a quanto già previsto dalla legge regionale, ci sono quindi, ricordo questi due punti importanti, che i fondi per la realizzazione saranno esclusi dal pato di stabilità e che verrà stabilito un preziario per la bonifica, per dare trasparenza anche nella fase successiva, quella della mappatura. Quindi esprimo il voto favorevole.